Conferenza stampa questa mattina presso la questora di Teramo da parte del dottor Soriente per informare gli organi di stampa sulle attività investigative in provincia e sui controlli effettuati su tutto il territorio nei mesi di luglio e agosto scorsi. Numeri importanti quelli comunicati dal questore. Sono state identificate 6.368 persone, controllati 3.468 veicoli, 53 soggetti denunciati a vario titolo, per detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio, furto, rapina, rissa, lesioni, ricettazione, minaccia aggravata, resistenza a pubblico ufficiale e porto abusivo di armi e porto di oggetti atti ad offendere, 23 soggetti arrestati per detenzione di sostanza stupefacente, minaccia aggravata e lesioni a pubblico ufficiale e 20 a termine di una complessa attività investigativa denominata action della locale squadra mobile che ha consentito di smantellare un hub della droga in provincia e sequestrare oltre 200 chili di sostanza stupefacente tra cocaina ed eroina. In particolare sei fogli di via sono stati disposti nei confronti di soggetti ritenuti responsabili a vario titolo di truffa, furto aggravato e in debito utilizzo di strumenti di pagamento diversi dai contanti, tentata estorsione, calugna e minaccia, monestie, possesso di armi o oggetti atti ad offendere, resistenza pubblico ufficiale, lesioni aggravate e guida senza patente, tutti reati commessi in diversi comuni del litorale terramano. Nell'occasione il questore soriente ha presentato Caleb Brustenga, commissario capo già dirigente nella questura di Ancona e Federico Mannini, commissario già dirigente in questura a Teramo, ex ispettore della squadra mobile di Cuneo, responsabile della criminalità organizzata e straniera. Approfittiamo stamattina per presentare i nuovi colleghi che si insediano appunto oggi, sono il dottore Brustrenda, del nuovo dirigente della squadra mobile e il dottore Mannino che da oggi assume la direzione dell'ufficio volante, del PGSP della questura. Sono due colleghi che arrivano da altro territorio, in particolare il dottore Mannino, arriva dall'istituto superiore di polizia dove ha appena concluso il ciclo di formazione per funzionari, mentre invece il collega della mobile ha già un'esperienza perché ha diretto l'ufficio immigrazione della costa di Ancona e poi l'UPG SP, quindi le volanti dell'ufficio prevenzione generale della costa di Ancona.